bella a tutti ragazzi sono fucker mode oggi giochiamo su shimen dominio con mio fratello stizio sk e ale bag vediamo come va la partita giochiamo col p90 col mirino laser bella classe e niente buon avviso ragazzi domini o soldati non fate prigionieri no la granata uap nemico in culo uap alleato online prendiamo alfa uap da ricognizione in attesa uap alleato online prendiamo b raid aereo alleato in arrivo e diamo bravo uap da ricognizione in attesa uap alleato online prendiamo charlie uap da ricognizione in attesa uap sotto controllo uap alleato online 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 Prendiamo bravo! UAB alleato online! UAB da ricognizione in attesa! UAB alleato online! Prendiamo bravo! UAB alleato online! Raid aereo pronto! UAB nemico in volo! Sì! In mano nemica! UAB! Abbiamo perso il domando! Raid aereo alleato in arrivo! UAB 그럼 basso! UAB alleato online! UAB allo-설are! UAB alleato online! UAB allo-설are! UAB alleato online! UAB alleato online! UAB alleato online! UAB alleato online! Sì come via le auto online figa no le flashback Grazie a tutti. 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 a tutti. Si stanno... a tutti. 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 a tutti.